Nonostante il momento sia uno dei peggiori mai vissuti da questa città, nonostante l'emergenza sanitaria che coinvolge tutti i numeri dei contagi ancora in crescita, a Cremona una soluzione che si auspica ma ancora non si vede, c'è una categoria che sembra non essere scalfita dal mondo rovesciato, quella dei ladri. L'ultima razzia ha colpito la zona di via Fabio Filzi, i più fortunati si sono visti solo sottrarre oggetti personali dalle auto in sosta senza danni. A qualcuno invece hanno scassinato l'auto, ad altri sono stati rotti finestrini, una decina in tutto le auto coinvolte, probabilmente ad agire è stata la stessa mano, misero il bottino, qualche moneta, oggetti personali, una sacca da golf, dell'accaduto si stanno occupando i carabinieri a cui è stata asporta la denuncia.